Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con un nuovo gioco Allora, questo gioco praticamente lo giocheremo in coppia Io e quel pirla lì di lui Che è dall'altra parte Ciao Aaron Hello Allora, niente, il gioco consiste nell'aiutarsi a vicenda Per riuscire ad arrivare alla fine del gioco Allora, ricreiamo il mondo Ok, io aggiorno Aspetta che devo ancora crearlo Sì, sì Ok, creata Ti chiami bot? Ok Il mio nome Allora, no, mettiamo Panic Games Ok Perfetto Allora, io sono nella stanza Che bella la stanza Perché ho anche un'estetica veramente doc In questo gioco Allora Dunque, io vedo un computer qua Eh, ciao Ciao Eh Ciao Ti piace scrivere sopra questo computer del cazzo? Ok Allora Dunque, io vedo due porte qua Una porta che si è aperta Vabbè Eh Però non c'è niente Apro quell'altra Cosa vedi nel taggetto che trovi? Ah, sì Scusa Doris Locked 7, 9, 2, 3, 8 7, 9, 2, 3, 8 Grazie Grazie Puoi uscire Forte Bene Dobbiamo fare una collaborazione Sì, ok Ho capito Allora Dunque Adesso Qua c'è il solito terminale Poi qua c'è C1 C2 C3 C4 C5 C6 Dei tastini Da schiacciare Bene Allora Andiamo a vedere questa stanza qua Ci sono delle porte C'è una cocchetta Doris Locked Perfetto Allora Forse bisogna aprire quella Un cesso senza la turca Perfetto Un cesso senza la turca È una bella cagata nel mezzo Ok Qua c'è una cagata Andiamo a vedere nell'altro Cagano in terra per forza Non c'è la turca Qua non c'è niente Qua c'è Una cagata nel mezzo Ah Ho capito Cosa? Ho capito Allora Dunque C1 C2 C3 C4 C5 C6 Allora C1 Deve essere questa La schiacciata per chamber C2 C3 Allora C1 C'è una cagata C1 c'è una cagata E l'altro invece è Nel Nel C C3 C4 C4 C5 C1 e C5 Aspetta che provo ad attivare C1 e C5 Qua La mia è C1 e C5 C3 e C4 Ah ce l'hai uguale anche a te No io c'ho C3 e C4 penso Prova a fare quello che hai detto tu Io ho fatto C1 e C5 Non si è sbloccato niente? Si si è sbloccato Adesso si Si è sbloccato Io ho fatto C3 e C6 Perfetto Bravo Aaron Ok proseguiamo Che ci c'è? Ho sentito una risata Ok Coffee Coffee Vado avanti Apro la porta E anche io C'ho un caffè La porta chiusa Porta si è aperta Tutta bianca Sembra un cesso anche questo Vivono di cessi qua Qua c'è il solito terminale Ma ci arrivano i messaggi Si si Sei tu Elino SS Ma io non scrivo sempre sul terminale Allora Andiamo a aprire questa qua Ho sentito che è arrivato un altro messaggio Ma non lo vado a leggere Adesso Sto guardando intorno Allora Questa qua si apre Si aprono tutte le porte Ehi Alì La mia no Questa c'è un tavolo Con un caffè E adesso arrivo Guarda un attimo che cosa devo fare Perché qua non faccio altro che aprire delle porte Allora Questa è chiusa Questa si è aperta C'è un tasto Un tasto rosso Schiaccio Premi Allarme rosso Ha suonato l'allarme C'è un C'è un C'è un qualcosa C'è una che C'ha le sue cose C'è Le c'ha E' rossa Vabbè E' Sanno stare l'inconvenevoli E' Allora Ho raccolto una chiave io Hai raccolto una chiave Ok Provo a usarla da qualche parte Ok allora Aspetta che forse te la devo mandare nel tuo mondo Si Si è aperto qualcosa Forse Questa porta si è aperta Ok Proseguo di qua Dovresti trovare una leva Dovresti trovare una leva prima Proseguo di qua E per caso Ho trovato una leva No No ho detto no Non ho trovato leve Ho sentito qualcosa che si è sbloccato Eh E come Qua c'è un No c'è un tastierino numerico Qua No non numerico Un tastino Ho aperto il tastino Ha fatto click E si è aperto Però a me non si è aperto niente Guarda se si è aperta te la porta Cosa? Io ho tirato una specie di leva Come vi hai detto te E praticamente ha fatto click Forse si è aperto qualcosa da te Eh Sì Io ho aperto tutto Si è aperta una leva Qualcosa Ah ecco Ok Ce l'ho fatto Sono entrato C'è un terminale Ti scrivo Ciao Pirla Ok Ah fanculo Ah perfetto Semisintonia Allora Adesso Thanks for playing This alpha Beh è già finito Sì Abbiamo finito l'alpha Ok Aaron Ce l'abbiamo fatta Ma tipo se ti fai prendere la tipa Tipo se mi faccio prendere la tipa Ah è vero Aspetta che provo a farmi prendere la tipa Perché non abbiamo visto cosa mi ha fatto Andiamo a vedere cosa mi fa Se la prendo Cioè se mi faccio prendere Perché Ha il sangue È qua Vado Intanto ride Arriva Arrivami sta per prendere aiuto Vado Mi ha preso Io sono esplodio Adesso non so cosa è successo a te Però Io questo è il mio principale A me neanche Non ho matato neanche E' scoppiato anche a me Yeah Ok ragazzi Questo era Tainted Un gioco Che ha scoperto Mio figlio Guardando su YouTube Ok Niente Questa è stata la nostra Prima collaborazione In un gioco In multiplayer Molto semplice Una alfa Niente Noi vi salutiamo Grazie per averci visto Ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti Ciao 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 Grazie a tutti.